Siamo all'altezza della rotonda sulla S-Statale 11 dove si è verificato un incidente stradale con un'auto che si è ribaltata, una persona che ha riportato per fortuna solo gli evi feriti. Ci è scelta sul posto un'ambulanza e la polizia locale che sta eseguendo i rivieri del caso. Grazie a tutti.